bravissimi bravissimi condivido pienamente sono un appassionato anch'io ti mando il video andate? vieni portate costume no 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 niente un po' troppo freschino oggi ciak si gira buongiorno a tutti oggi 18 dicembre 2020 mancano esattamente sette giorni a natale anzi per dirla me tra sette giorni esatti siamo lì che abbiamo finito di aprire tutti i regali che ha portato babbo natale se li porta babbo natale e mi auguro almeno uno si e stiamo preparandoci per abbuffarci in maniera poi io non ho la più palida credo che riparò il risotto al prossimo perché ci sta ancora anche perché ho pochi ingredienti quindi non posso sbagliare diciamo così poi è vegano io invece proporrei un risotto con lo speck la pancetta è il contrario è per la festa del maiale io faccio le cose scolente e cosa aspetti da babbo natale ecco le cose belle perché io sono stata brava sei stata brava hai fatto tanti bagnetti sono stata brava brava sono stata tanto brava si questo sicuro tanto brava e allora qualche cosa il babbo natale mi porterà chi lo so qua sorpresa 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 anche lui è stato brava ma già anticipato, qualcosa già anticipato Grazie a tutti.